Buongiorno ragazzi, a chi facesse Stamattina ho sentito tantissimi, non solo stamattina, sento tante belle parole sui giocatori che possono arrivare all'Inter, sento soprattutto i detrattori che ci rompono i coglioni mentre stiamo stradominando un campionato che ora siccome lo sta per vincere l'Inter è diventato un campionato di seconda categoria, ma ci sta, ci sta, era prevedibile Però purtroppo vedo anche illudere tanti tifosi perché è vero che noi abbiamo, diciamo, non siamo andati a mettere il dito su un nervo scoperto Parlando dei bilanci, della situazione economica dell'Inter Però le persone, innanzitutto, questi fuori classe fanno i giornalisti sportivi Io di Zig Zee, di Gudmolson, ne parlo dall'anno scorso Ora tutti parlano di questi giocatori Zig Zee su YouTube sono stato il primo a parlarne Ma non voglio la medaglia, ci mancherebbe Però dovrebbero parlarne loro e lo fanno di lavoro Ora Zig Zee è diventato un fenomeno Però ragazzi, quando si parla di giocatori come Zig Zee, come Gudmolson Di Gudmolson ne ho parlato tantissime volte Cioè, a me devono spiegare, e non solo, come fanno questa proprietà a prendere questi giocatori Perché poi, dopo, alla fine, si va a cascare sempre lì Allora, chi illude tifosi siete voi Se voi state illudendo i tifosi, voi lo fate di lavoro Illudete i tifosi, perché dovete spiegare come questa proprietà può prendere questi giocatori Perché quest'estate, te lo ha dimostrato Ha venduto per 120 milioni e ha acquistato per 50, 60, quelli che sono Quindi, chi vende per prendere questi giocatori, questa proprietà? Dov'è il riscadenziamento? Cioè, queste cose le dovete spiegare Quali sono le garanzie che può mettere per fare un rifinanziamento che non farà mai? Cioè, queste cose le dovete dire voi che lo fate di lavoro Non un tifoso da poltrona come me Dall'altro voglio dire una cosa importante Essendomi confrontato con i ragazzi Ma è inutile tanto mettere la polvere sotto il tappeto Perché tanto ormai la stagione l'è finita Stiamo facendo una stagione fantastica da ricordare Questa sarà una stagione che entrerà nella storia per la seconda stella Ma per quelli che parlano di pareggio di bilancio L'anno scorso, nella miglior stagione della storia dell'Inter per incassi Mancava solo Digital Beats, 20 milioni Con tutte le cessioni che hai fatto Hai perso 85 milioni Quest'anno i fuorilassi della finanza mi devono spiegare Come l'Inter andrà in pareggio di bilancio Dipenderà molto Dipenderà molto Da come riescono a mettere a bilancio le cessioni Barra plusvalenza Dipenderà molto da come riescono A gestire gli scatti Magari trovando gli accordi Che tipo di accordi riescono a trovare con il Sassuolo E con le altre squadre Ma secondo noi L'Inter quest'anno Perderà dai 60-70 milioni in su E te hai una perdita di 60-70 milioni Qualcuno dei ragazzi dice anche sui 100 milioni Teniamoci bassi 60-70 milioni Te perdi 70 milioni con un presidente Che non può mettere dentro un euro Quindi 70 milioni di perdite dell'Inter Equivalgono a 300 milioni di perdite per un altro club Ma a parte questo Anche perché solo di interessi Ti hai 40 milioni solo di interessi Quindi vorrei Vorrei capire Cioè io vorrei capire come fanno a parlare Di pareggio di bilancio Con un'azione Che è con l'azionista di riferimento Che è il desaparecido Che non ha liquidità Non può mettere un euro Il pareggio di bilancio E' un'altra favola Come ci dovete spiegare Questa proprietà Come potrebbe prendere Zig Zee Gudmundson E soprattutto Come questa proprietà Potrebbe rifondare questa squadra Perché questa E' una squadra da rifondare E' una squadra che ha dato tutto E' una squadra davanti a cui ci si deve scappellare Perché questa Bisogna togliersi il cappello Scappellare si dice in Toscana Ora se no qualcuno dice a Giuseppe Togliamoci il cappello Ma è una squadra Che ha avuto tre Quattro titolari di trentacinque Trentasegni anni E' una squadra Che comunque dove ci devi mettere in mano L'anno prossimo ci sono settanta partite Quindi Quello che vorrei capire io Spiegate anche Zig Zee Come fa a arrivare all'Inter oggi O Gudmundson Come fa a arrivare all'Inter Poi di Arnautovic Cosa te ne fai? Hai speso dieci milioni Per Arnautovic Il prossimo anno pensi di venderlo Questo dovete spiegare voi Che te il prossimo anno Se trovi solamente uno Che paga l'ingaggio ad Arnautovic Sei fortunato Perché prende tre milioni e mezzo Sanchez va via Uguale Ma quindi Cioè ragazzi Qui bisogna capire Secondo me Che è il giocatore Che non mi veniva ieri Me l'avete ricordato voi Era frattesi Questa è una squadra Questa è una rosa Con quattordici giocatori buoni E se levi il portiere Sono trentici Parliamo di giocatori Che il portiere Ovviamente Non è un ruolo usunante A livello mentale Ma non fisico Tredici giocatori Ma di cosa vuoi ragionare? Poi Siamo andati fuori Comunque con dignità Ce la siamo lottata Fino in fondo Abbiamo Siamo andati ai rigori Ma cosa Cioè io non capisco La gente Cosa pretendeva A questa squadra Solamente gli amici Di Zanghi Vi dicevano Che avevamo una rosa Come il Real Madrid Del Barcellona Loro ve lo dicevano Ma il campo Non dice questo Capito qual è il discorso? Il campo Non dice questo Quindi ci devono Spiegare Loro ci devono spiegare Con questa proprietà Come fanno arrivare Zigze Gudmundson E soprattutto Come fai a sostituire A Sherby Perché se vuoi un difensore Centrale forte Che giochi a tre E non è un ruolo facile A trovare Te devi spendere Quaranta milioni I tempi per i braccetti I braccetti A Giovanna a treno Li trovi dietro l'angolo Se li vuoi forti Venti Trenta milioni Almeno bisogna Tu le spenda Questo ci devono spiegare Come sostituisci Darmian Come sostituisci A Sherby Come sostituisci Mkhitaryan Perché Puntare il prossimo anno Con Mkhitaryan A Sherby E Darmian Come titolari E da pazzi Se devi pensare A sostituirli Negli undici titolari Più poi c'è la panchina Da gestire Klasse Sensi Arnautovic Sanchez Cioè Buchanan Buchanan E lo stesso Giochino Che hanno fatto Quando presero Gosez Dall'Atalanta Loro Loro Vanno Dall'Atalanta Non a prendere Un giocatore Che ci serviva Perché a noi Serviva una punta Loro Prendono uno Prendibile Che non pagano Subito E così che purtroppo Si sta muovendo L'Inter Negli ultimi 3-4 anni Ragazzi E' così che si sta E' così che si sta Muovendo Loro Vanno a prendere Gosez Perché gli fanno 48 rate E perché non c'è Nessun esborso Quando serviva Un attaccante Come il Pano Quest'anno Uguale A gennaio Prendono Buchanan Che ancora Non ha visto Il campo Quindi Pensa Quanto l'allenatore Lo poteva ritenere Fondamentale In sede di mercato L'allenatore Non è che gli ha detto Prendimi Buchanan A gennaio Altrimenti L'avrebbe fatto Gioare E' stato Un giocatore Prendibile Con pagamento Sempre dilazionato Con 48 Comoderate Ma non hai preso Un giocatore Che ti faceva comodo Infatti Contro il Bologno In Coppa Italia Margheritoni Si rivora l'impossibile Vai fuori Contro l'Atletico Madrid A Milano Margheritoni Si rivora l'impossibile E vai fuori Quell'altro Il gattino Annaffiato A malapena Si legge in piedi Ed ecco anche Uno dei motivi Per cui te Non puoi competere A certi livelli Senza soldi Prendono quello E possano prendere Perché quest'estate Siamo partiti Da prendere Lukaku Attaccante Poi siamo arrivati No l'attaccante Ci serve più Più andiamo Il centromampista Samarzi Ma noi Il centromampista E Babo Fa casino Difensore Questo ti fa capire Non c'è programmazione C'è solo Improvvisazione E te prendi Solo quello E è prendibile Dall'attaccante Sono andati a prendere A investire 30 milioni Su un difensore Poi gli ultimi giorni Di mercato Sono ricordati E serviva un attaccante Vanno dal Bologna Una settimana prima Dell'inizio del campionato Il Bologna Ovviamente Ti smutanda Perché ti fa credere Che Arnatovic Sa attitolare Ma avevano già in mente Di puntare Sul zigzee E te lo fa pagare 10 milioni E gli dai Anche Fabian Su Fabian Un'altra cosa Che devo rimancare Io parlo Di Fabian Da quando era La regina Io Dal Dal fine Del campionato Dell'anno scorso Della regina Di sì Questo ragazzo Va riportato a casa E l'ho detto Anche due anni Due mesi fa Ora tutti a dire Che Fabian Va riportato a casa Non gliel'ho regalato Io al Bologna Fabian Perché Perché se te calcoli Quanto ti è costato Arnatovic Te hai regalato Fabian al Bologna Con la recompra 12 Ma Fabian Era tuo Quindi te ora Devi spendere 12 milioni Per un giocatore Che l'era tuo Più 10 milioni Margheritoni Mi dici quanto è costato Arnatovic Per favore Mi dici quanto è costato Arnatovic Allora Per migliorare Per crescere Bisogna guardare Le cose positive E le cose negative Perché qui ragazzi Di fuori classe Di fenomeni E non ce n'è Se te calcoli L'operazione Arnatovic E te costavi Più di 20 milioni Ma di cosa ragioni Perché Fabian Cosa vuoi fare Non lo vuoi riportare A casa Questo se continuasi A fine anno E vale 30 milioni Ringrazia il signore Se tu lo ripigli a 12 Ma gliel'avevi regalato Per Margheritoni Di cosa ragioni Fa anche rima Ecco perché ti dico io Ok Grande stagione Togliamoci il cappello Davanti Ad allenatore Davanti ai giocatori Davanti a tutti Allora ragazzi Siamo a metà A marzo Tra due mesi È finita la stagione Il prossimo anno C'è 70 partite Dove vuoi andare In questa rosa Te il prossimo anno Qualora rimanesse così Dove vai? Bisogna mettere mano Ai portafogli Prendere 7-8 giocatori Di cui almeno due titolari Qui servono soldi Non servono più debiti Per quello a volte Capito? Cioè io sono abituato A guardare anche al futuro Ma non è che sto parlando Da qui a 18 mesi Ragazzi Sto parlando da qui a due mesi Poi è normale Se vince il campionato Faremo una live Festeggeremo Si si beve lo sfumante Per l'amor di Dio Però poi dopo Quello ti dico io Ciao a tutti